benvenuti a minecraft ancora circondato dai mostri no 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 non provarci oh merda son due aia meglio non non rischiare no 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 prendiamo un po' di carne che non voglio morire la verpa è troppo lontana ok una spada di ferro altra carne dai 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 grazie questo non mi serve adesso aspettiamo che ci si ricarica la vita e ho ancora delle buove comunque non so cosa fare allora mi dovete scrivere nei commenti cosa volete due video al giorno di 10 minuti o uno di 15 e poi se volete che carico altri multiplayer di battlefield o la campagna adesso adesso ho mancato ah 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 devo uccidere dei ragni e cerco di farlo senza avvicinarmi troppo e il servono alto di oranio creeper va ad uccidere morto e c'è interruzione c'è gente che parla nel sfondo devo battermi per arrivare a quel ragno se questo zombie mi ha visto mi aiuto ecco un ragno proprio vicino si perchè mi voglio fare un arco il primo e no aiuto la mia casa è stata impredonita occupata dagli zombie c'è occupata dagli zombie dai sceni se ne hai il coraggio anche questo è morto poi la cosa che mi interessa se poi nella versione finale mi fa male il dito se nella versione finale gli zombie attaccano anche gli npc sarebbe interessante saperlo se forse voi ne sapete qualcosa nooo nooo questo aiuto 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 nooo andate via ah dolce casa o come si dice home sweet home ma non so come si dice in italiano prendiamo il touch facciamo qualche torcia poi il resto lo mettiamo qua ciao zombie aiuto aiuto una cosa che proverò se muoio se perdo il mio livello ma non qua non voglio rischiare ci diamo aiuto è rimasto fermo il mouse adesso muove adesso muove ma quanti vogliono venire non gli ho fatto niente via 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 non è aiuto dai sole ce la puoi fare non riesco a uscire ah ma ci picchiamo aiuto il mouse mi si impalla un po' a volte un po' a volte un po' no 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 se entra non smette di bruciare faccio il corpo di grazia gli do un corpo di grazia mancate ok molto bene andiamo a a a a a a tutto ah beh così adesso chiudo qua per non fare tante zombie Adesso Tantissimi stick Ciao ragno Ciao ragno Andiamo a prendere un po' di sassi Aiuto Cosa ci fai qua? Vai via voi Mi sei rotto anche tutto Si è rotto A quanto pare dobbiamo entrare nel bosco Non è che abbia tanta voglia di farlo Perché I zombie di solito lì non bruciano Mi chiedo Qualcuno di voi sa dimmi Perché cosa fai? Cosa vuol dire? Che ho fame? Boh Che figo Le bollicine Non me ne ho mai accorto Forse perché prima non c'era possibile Adesso è smesso Non ho ben capito cosa fa ma Non fa niente Alta legna Alta legna Che figo Aiuto Grotta Dove non entro Così Meloni Tanti bei meloni Che figo Melonhead Non vedo Non vedo niente Ma Non fa niente Mi piace Quando metti in testa I meloni Me li porto dietro tutti 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 Ok Penso che erano tutti Sì Non ne vedo più Almeno Alta legna 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 Si dice Che novembre Dovrebbe finire Minecraft Che peccato Mi piaceva Che ogni volta C'era un update Era la cosa più bella Di Minecraft Secondo me Ok bene Credo che Di legna Ne ho abbastanza E direi Di tornare A casa Qua ci sarà L'arma Liolo Quanto ci scommettete Quando gli NPC Sono finiti Perché Guardate Qua si mette Sopra L'arma Qua si scioglie Il metallo Ma anche Il coso D'acqua Dove si Si mettono Le cose Per affreddare Non so Se avete presente I amalioli Anche le sbarre Così Per tenere Le armi E i martelli E anche le spade Si mettono In quei cose D'acqua Così Ok E adesso Così Dieci 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 Guardate Cosa Faccio E attacco Qua Ops Non volevo Fare Questa Facciamo Ti Un'ascia E l'episodio Finisce Qua E Videci Un'ascia 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 Un'ascia